Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Leonardo Di Giuseppe che mi chiede di parlare del film del 2010 della Disney La principessa è il ranocchio di Ron Clement Allora bisogna che faccia tipo outing, secondo me questa principessa è il ranocchio è uno dei migliori film della Disney almeno degli ultimi 30 anni, io mi ci sono divertito tantissimo l'ho trovato notevole nella classica storia del principe che viene infamato dal voodoo e che diventa ranocchio e che quindi deve essere baciato da una principessa per tornare principe qui viene data la variazione che bacia una ragazza che come sogno ha quello di fare un grande ristorante Jets sin da quando gli è morto il bapo da piccina e che per finta si cambia per principessa da un bacetto a questo ranocchio e invece cosa succede? Che anche lei stessa diventano una ranocchia quindi insieme dovranno viaggiare attraverso le paludite di New Orleans ambientato negli anni del Jets d'oro dovranno andare durante il loro viaggio di cambiamento, di trasformazione anche per comprendersi il principe che diventa sempre più umano, lei che incomincia a comprendere cos'è la vita con le difficoltà, il meraviglioso è veramente splendido il cuccodrillo lì che sona il Jets è splendido anche l'ovino che diventa la piccola lucciola un film pieno di personaggi anche minori interessanti poi disegnato animazione notevole, secondo me bellissime le canzoni per una volta io che odio le canzoni nella roba da Disney qui anche se in italiano sono ascoltabili, in inglese sono bellissime hanno quel senso del Jets, di swing, malato sono veramente cattivissime così come sono cattivi, veramente cattivi in questo film le ombre dei demoni spaventano così come spaventa lo stregone voodoo che sembra Samuel Jackson veramente terribile, un cattivo di quelli controcazzi un film della Disney secondo me che ha segnato con il suo successo purtroppo la fine dell'animazione normale appunto per la Disney che ormai andrà solo di computer grafica ed è un male vero perché qui il tratto della matita, il tratto dell'anima del disegnatore e del regista viene fuori in tutta la sua forza in questo piccolo gioiello che secondo me appunto è questo principe stranocchio che pure possiedo anche qui facendo il video da casa perché è impossibilitato di farlo dal negozio detto questo qui sotto c'è il link per comprarlo al solito Patreon, al solito donate, al solito fate quello che vi pare iscrivete e mettete vi piace ma soprattutto se amate l'animazione secondo me questo principe stranocchio è veramente un film imperdibile un piccolo capo d'opera che se non possiamo considerare il capolavoro è comunque un film di quelli che sono la fine di una generazione purtroppo quella disegnata ma che in realtà fa capire che le nuove generazioni quelle tutte fatte al computer dovrebbero un po' tornare qui per cercare di capire come si emoziona anche e non solo attraverso grandissimi effettori e grandissime messe in scena ma anche solo attraverso una storia ben costruita bei personaggi e soprattutto con un cattivo controcazzi che mette paura e che al solito come sempre nei film dona un punto in più alla pellicola quando è riuscito quindi a voi la principessa ranocchio e poi fatemi sapere se vi è piaciuto perché io l'ho trovato veramente 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 bello